E così si sciava ai piani d'Erna, la notizia dello smantellamento degli impianti di risalita nel balcone della nostra città ha risvegliato ricordi a migliaia di lecchesi che a Erna hanno imparato a sciare. Dal nostro archivio vi proponiamo le immagini di una gara promossa nel 1981, una manifestazione, pensate, di livello regionale. Sulle nevi dei piani Erna si sono svolte le gare di sci organizzata dal comitato zonale di Lecco, slalom gigante per il terzo trofeo neve. Ha organizzato l'associazione centri sportivi industriali XAIN che si è costituita, ecco, in sezione da poco, quindi è il comitato zonale lecchese che ha organizzato queste gare e che si è allineata con il centro nazionale che da anni opera fattivamente in diversi sport. Quindi ripetiamo il comitato organizzatore XAIN di Lecco, gare ai piani Erna. La giuria era composta dai signori Luigi Moretti, giudice arbitro, Tino Crespi, giudice di partenza, Anna Gatti, giudice d'arrivo, Emilio Longhi, direttore di gara, Sandro Spallotti, direttore di pista, capo dei controlli, Emma Negri. Le caratteristiche tecniche di questa gara, la pista, bocca 2, lunghezza 700 metri, dislivello 116 metri, 30 porte da superare. Apripista, Damiano Chiappa, Alessandro Sartori, Michele Cattaneo.